Con una serata di gala tra musica, moda, spettacolo e tanta allegria si è concluso a Villa Rendano l'evento Sere d'Estate, una manifestazione fortunata che in questa seconda edizione ha riscosso il favore di un numeroso pubblico che per tutti i giovedì del mese di luglio ha partecipato a cinque serate di spettacoli che hanno spaziato dalla musica al teatro, regalando momenti di grande suggestione, complice anche la spettacolare cornice di una tra le dimori antiche più belle del centro storico di Cosenza. Stasera è l'ultimo appuntamento che è più che altro una festa, una festa di ringraziamento al pubblico che è stato molto caloroso, molto affettuoso, quindi ci ha pregiato della sua presenza per quattro puntate, questa è la quinta puntata, quindi un arrivederci, un augurio di buona estate e speriamo che il prossimo anno possiamo ripetere questa rassegna. Dopo una breve pausa estiva il progetto Villa Rendano riprenderà le attività di programmazione culturale in vista dei prossimi importanti appuntamenti previsti per l'autunno. Con questa serata finiamo un percorso e ne apriamo un altro perché già da domenica inizieranno i lavori per il Consensitina, il museo multimediale sulla storia della città di Cosenza. Tutto il mese di settembre e ottobre sarà dedicata la lavorazione e apriremo la nuova stagione intorno ai primi giorni di novembre.